La vita sentimentale di Francesco Totti continua a far parlare Recenti rivelazioni hanno scosso il mondo del gossip italiano. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex capitano della Roma sarebbe coinvolto in un presunto tradimento nei confronti di Noemi Bocchi, la sua attuale compagna. Le voci circolano soprattutto a seguito di una dichiarazione della giornalista Maria Luisa Iacobelli, che ha confermato di avere avuto un flirt con Totti. Questa notizia ha riacceso l'interesse per la coppia, che da tempo vive sotto i riflettori, e il pubblico è ansioso di conoscere i dettagli di questa intricata vicenda. Nonostante le polemiche, Totti e Bocchi sono stati avvistati insieme durante un recente viaggio a Miami, suggerendo che la loro relazione potrebbe essere più solida di quanto si pensi. Il gossip attorno a Totti è inarrestabile, e ogni nuovo sviluppo attira l'attenzione dei media e dei fan. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi su questa intrigante storia. Grazie. Grazie. Grazie.